A gennaio per il bagaglio a mano ci saranno nuove regole per la compagnia aerea Low-Cost-P Popolare d'Europa. Sono oggi state stabilite, ma entreranno in vigore dal 15 gennaio 2018. Ryanair ha prorogato alla mette del mese di gennaio 2018 l'entrata in vigore delle nuove regole, che era inizialmente prevista per il 1 novembre 2017. Che cosa cambia? Bagaglio a mano Ryanair. Nuove regole bagagliosi siamo arrivati al primo mese del neonato anno 2018. Insieme ad aggiornamenti su tariffe e bollette. Con Grincare i vari, arrivano novità anche per i viaggi e non solo riguardanti il pedaggio autostradale. Ryanair la compagnia aerea Low-Cost-P famosa in Europa lo aveva infatti già annunciato nell'anno 2017. Sarì il 15 gennaio 2018 la data per l'entrata in vigore della nuova policy relativa ai bagagli in cabina. Inizialmente prevista a partire dall'1 novembre 2017. Un modo, secondo la compagnia Low-Cost, per consentire ai clienti un ulteriore lasso di tempo per adeguarsi ai cambiamenti dei provvedimenti sul bagaglio, soprattutto in vista del periodo natalizio. Ecco i cambiamenti tra i cambiamenti. La nuova policy Ryanair relativa al bagagli a mano include una riduzione delle tariffe per i bagagli registrati. La somma si aggirerda 35 a 25 euro. Questo sconto nato per incoraggiare i clienti ad acquistare il bagaglio registrato. In questo modo si riduri il volume dei bagagli a mano. Il peso consentito del bagaglio registrato passerà invece da 15 kg a 20 kg per tutti i bagagli. Dal 15 gennaio 2018, solamente i clienti che avranno acquistato l'imbarco prioritario potranno imbarcare due bagagli a mano in cabina. Tutti gli altri clienti potranno avere con loro un solo bagaglio. Il P piccolo, mentre il P voluminoso, come ad esempio un trolley con ruote, ver collocato senza costi aggiuntivi al gate d'imbarco. L'imbarco prioritario a pagamento. Solo previo avversamento della somma prevista. I clienti potranno portare in cabina due bagagli a mano. Nessun costo aggiuntivo per tutti gli altri kindi. Potranno portare due bagagli a mano in cabina solo i passeggeri che hanno acquistato l'imbarco prioritario. Tutti gli altri potranno caricare gratuitamente in stiva il proprio trolley. direttamente all'ingresso dell'aereo. Il cambiamento della regola si deve al fatto che troppi passeggeri portavano con esse due bagagli. Riempiendo troppo le cappelliere dell'aereo nei voli molto affollati. Ricordiamo che negli ultimi anni. Ryanair permetteva ai propri passeggeri di portare in cabina due bagagli a mano. Uno grande, come un trolley, borsa o zaino, da 55 cm x 40 cm x 20 cm. Più uno piccolo, borsetta o cartella, o borsa del computer con le seguenti misure. 35 cm x 20 cm x 20 cm. Dal 15 gennaio 2018, non cambier la somma da pagare. Saranno sempre due i bagagli gratuiti compresi nel prezzo del biglietto Ryanair. Solo chi acquisterà parte l'imbarco prioritario. Può portare in cabina solo un bagaglio a mano. Mentre il trolley ver messo in stiva. Imbarco prioritario compreso tutti i passeggeri senza imbarco prioritario dovranno imbarcare il loro bagaglio a mano grande all'ingresso dell'aereo. Non procederanno quindi al banco check-in, ma direttamente al gate. Qui, i passeggeri con imbarco prioritario verranno incolonnati in una fila diversa. L'imbarco prioritario Ryanair costa 5 euro al momento della prenotazione. Oppure 6 euro. Si è acquistato in un secondo momento. Può essere aggiunto alla prenotazione fino a un'ora prima della partenza del volo. Le nuove regole Ryanair per il bagaglio a mano hanno portato a qualche cambiamento anche per i bagagli da stiva. Dal 15 gennaio 2018 la franchigia del bagaglio registrato al check-in aumentar da 15 kg a 20 kg. È la tariffa standard SAR ridotta da 35 a 25. Quindi, se decidete di imbarcare una valigia grande potrete portare Piroba spendendo meno. Ryanair. Nuove regole per bagaglio a mano altro su MSN. Uomo forza uscita d'emergenza su un volo Ryanair. A post, sponsorizzato, scopri gli esclusivi prodotti Surface in offerta sul Microsoft Store. Spedizione gratis.